Il 22 giugno 1936, mentre saliva la scalinata dell'Università di Vienna, Moritz Schlich, famoso filosofo, fu abbordato da uno studente, il quale era seccato per un saggio che il professore aveva scritto, sul quale lo studente non era d'accordo, e gli sparò una rivoltellata e il filosofo morì su queste scale. Si fece un processo, naturalmente l'assassino fu dichiarato infermo di mente, ma pochi anni dopo, nel 1938, venne prosciolto perché erano arrivati ormai al potere i nazisti con l'annessione dell'Austria e lui si era reso utile, secondo i nazisti, al sistema eliminando un professore ebreo. A parte il fatto che Schlich non era ebreo per quello che può interessare, discendeva dalla nobiltà prussiana, la cosa importante per noi e per la nostra storia della logica era che nel 1924 egli aveva fondato, e poi era stato l'animatore fino alla sua morte, di un circolo, il famoso circolo di Vienna, una specie di congregazione di filosofi e di epistemologi che ogni venerdì sera si riuniva a celebrare, naturalmente, i loro riti filosofici e si ispirava al trattato logico-filosofico di Wittgenstein, del quale abbiamo parlato, e cercava di porre la logica come fondamento della filosofia. L'esponente più famoso di questo circolo di Vienna non era però Schlich, ma fu Rudolf Carnap, che scrisse, anzitutto ebbe una famosa diatriba con il grande filosofo Heidegger, che ancora oggi viene considerato dai filosofi continentali il loro nome tutelare, e Carnap scrisse un famoso manifesto che si intitolava l'eliminazione della metafisica mediante l'analisi logica del linguaggio. Un po' quello che abbiamo cercato di fare piano piano nel corso della nostra storia, cioè di mostrare come l'analisi logica e la logica più in generale spesso riescono a decostruire molte delle nozioni metafisiche alle quali noi crediamo senza quasi magari accorgerci. Ebbene, coloro che frequentavano il circolo di Vienna erano una piccola congregazione di adepti, e uno di questi adepti, entrato all'Università di Vienna nel 1924, era stato immediatamente catturato nell'orbita del circolo di Vienna da Schlich stesso, si chiamava Kurt Gödel. Gödel è stato nominato più di una volta ormai nelle puntate precedenti, ed è di lui che oggi dobbiamo parlare, il più grande filosofo e logico del Novecento, forse il più grande logico della storia insieme ad Aristotele. Che cosa fece Schlich con Gödel? Beh, anzitutto lo iniziò alla sua congregazione facendogli leggere l'introduzione alla filosofia della matematica di Russell. Il libricino, abbiamo detto, che Russell scrisse in galera nel 1918. Gödel frequentò anche le lezioni di Carnap in quegli anni, dalle quali poi nacquero libri famosi come la costruzione logica del mondo, oppure la sintassi logica del linguaggio. Notate come nei libri di Carnap, nei libri del circolo di Vienna, la logica fosse la cosa fondamentale. Abbiamo visto l'articolo precedente, l'eliminazione della metafisica mediante l'analisi logica. Ora si parla di costruzione logica del mondo, di sintassi logica del linguaggio. Cioè la logica veramente veniva applicata a tutta la filosofia, da una parte la filosofia del mondo fisico e dall'altra parte alla filosofia del linguaggio. Quindi Gödel fu catturato in questo circolo di Vienna, non ne fece mai parte e non accettò mai la filosofia del circolo di Vienna, però era un tipo molto solitario, tra l'altro molto taciturno, stette a sentire, imparò che c'erano molti problemi aperti nella logica che hanno stati formulati e lasciati aperti da personaggi a partire da Leibniz fino a Hilbert, a Brower, a Poincaré e semplicemente decise di risolverli e lo fece. Il primo problema che Gödel riuscì a risolvere nel campo della logica matematica era un problema che era stato enunciato da Hilbert nel 1928. Gödel lo risorse a 23 anni nella sua tesi di laurea, che incominciò subito la sua carriera di grande logico e il suo risultato fu quello che oggi viene chiamato il teorema di completezza della logica. Il teorema di completezza significa, detto in parole povere, come si potrebbe dire, parole non tecniche, che gli assiomi che i principi a matematica di Russell e White avevano enunciato per la parte logica della matematica, cioè per il trattamento da una parte dei connettivi scoperti e studiati dagli stoici e dall'altra parte soprattutto dei quantificatori scoperti e studiati da Aristotele, come si ricorderà dalle prime nostre conversazioni, ebbene questi assiomi che Russell e White avevano posto a fondamento del loro libro, così come d'altra parte anche Frege aveva fatto nei suoi libri, questi assiomi erano completi. Che cosa significa completi? Notiamo anzitutto che qui si sta ritornando alla formulazione dello studio della matematica e dei sistemi formali, che è tipica dell'approccio di Hilbert. Hilbert aveva dimostrato la completezza della geometria, aveva dimostrato che tutte le verità geometriche possono essere derivate dagli assiomi che lui stesso, Hilbert, aveva posto nei fondamenti della geometria, ebbene Gödel nel 1930 appunto dimostra che la stessa cosa è vera per la logica, cioè tutte le verità di natura logica possono essere derivate dagli assiomi che Russell e White da una parte e Frege dall'altra avevano posto a fondamento del loro sistema. Questo è un bellissimo risultato naturalmente, soprattutto come risultato di tesi di laurea, fece diventare Gödel immediatamente famoso, e il passo successivo però sarebbe stato dimostrare che anche gli assiomi per l'aritmetica e per la matematica più in generale erano completi. Se questo fosse stato vero, effettivamente il programma di Hilbert si sarebbe concluso, Russell e White sarebbero stati vendicati e si sarebbe dimostrato che si era trovata la soluzione finale, tra virgolette, dei problemi della logica. Dico soluzione finale, qualcuno magari si seccherà perché questa è una brutta espressione che è stata usata politicamente appunto da Hitler nel campo dello sterminio degli ebrei, però c'è un episodio interessante perché Hilbert andava a scuola a Graz insieme a Wittgenstein, frequentavano entrambi la stessa scuola, se si legge il Mein Kampf si parla in alcune pagine di questo ragazzo ebreo che era appunto Wittgenstein, molto intelligente, che dava fastidio a Hitler negli suoi studi, e la cosa interessante però è che anche Wittgenstein agli inizi del suo trattato logico-filosofico aveva parlato di soluzione finale dei problemi della logica. Evidentemente in quella scuola, la scuola che frequentavano da una parte Wittgenstein e dall'altra parte Hitler si davano degli insegnamenti di natura un po' ambigua, ebbene comunque la soluzione finale dei problemi si sarebbe trovata se si fosse dimostrato che gli assiomi di Russell e Wittgenstein per la matematica erano in realtà completi. Ma questo fu il secondo risultato che ottenne Gödel nel 1931, cioè nella sua tesi di dottorato, e fu un risultato che sconvolse in realtà l'intera matematica, l'intera filosofia della matematica. A differenza dagli assiomi della logica, che sono effettivamente completi come Gödel stesso dimostrò l'anno prima, gli assiomi della matematica invece, gli assiomi isolati da Russell e Wittgenstein, non erano completi. C'erano delle verità che non si potevano dimostrare a partire da quegli assiomi. Ci sono verità non dimostrabili. Questo è ciò che Gödel scoprì nel 1931, riferito al sistema matematico di Russell e Wittgenstein, dei principi a matematica, oppure al sistema di Frege, del suo libro in tedesco invece. Che cosa significa il fatto che ci siano delle verità non dimostrabili? Significa che il sistema che Russell e Wittgenstein avevano cercato di costruire per i fondamenti della matematica era un sistema incompleto. Mancavano alcuni assiomi proprio perché era possibile trovare delle verità matematiche che non discendevano dagli assiomi che erano stati enunciati. Poco male si dirà perché in realtà anche nel caso degli elementi di Euclide si era trovata la stessa cosa. Ricorderemo che già la prima proposizione del primo libro di Euclide, in realtà, come aveva scoperto Leibniz, non discendeva dagli assiomi di Euclide, però era bastato in quel caso aggiungere un nuovo assioma ed ecco che il sistema aveva permesso di dimostrare quella particolare proprietà. E poi, col passare degli anni, Hilbert aveva dimostrato, aveva trovato, costruito, un sistema di 20 assiomi per la geometria, di cui invece aveva dimostrato la completezza. Quindi tutte le verità geometriche si potevano dedurre dal sistema di Hilbert. Qui si poteva pensare che la cosa fosse analoga. Mancava qualche cosa al sistema di Russell e Whitehead e quindi questo sistema andava supplementato, bisognava aggiungere qualche nuovo assioma per far sì che si potessero dimostrare nuove verità, anzi bisognava trovare un modo per concludere l'argomento, cioè trovare un sistema completo. E invece il problema, e questo è il motivo per cui Gödel divenne così famoso, il problema è che il teorema di Gödel, quello che lui dimostrò nel 1931 nella sua tesi di dottorato, non si riferiva soltanto ai principi a matematica, ma come diceva già espressamente il titolo del suo lavoro, si riferiva ai principi a matematica e a tutti i sistemi affini. Cioè il problema che Gödel aveva individuato non era un problema legato a un particolare sistema storicamente determinato come quello di Russell e Whitehead, ma era un problema della matematica stessa. Qualunque sistema di assiomi che si fosse proposto per l'aritmetica e più in generale dunque per l'intera matematica doveva essere incompleto. L'incompletezza era un fenomeno legato direttamente alla natura della matematica. In qualunque modo si fosse cercato di assiomatizzare la teoria dei numeri e più in generale la matematica, si sarebbero sempre trovate delle verità che rimanevano al di fuori del sistema. Naturalmente si poteva prendere queste verità e aggiungerle al sistema in considerazione come nuovi assiomi, ma il teorema di Gödel diceva che ci sarebbero state altre verità in questo nuovo sistema allargato che non potevano essere dimostrate da quegli assiomi e così via. La matematica in realtà rivelava una incompletezza di fondo, una limitazione fondamentale, il fatto cioè che mentre per la logica era stato possibile, così come d'altra parte anche per la geometria, trovare dei sistemi di assiomi completi che permettessero di derivare tutte le verità, in generale per l'aritmetica e quindi per tutta la matematica della sua interezza, questo non era possibile. Ed è per questo che il teorema di Gödel divenne così importante, fu citato naturalmente a proposito e a sproposito da filosofi, da letterati, pensato addirittura, e questo è un caso più unico che raro, che ci sono state delle poesie che sono state dedicate a questo teorema, per esempio Enzensberger ha scritto una poesia che si chiama Omaggio a Gödel, un musicista, Enze, che ha addirittura messo la poesia di Enzensberger all'interno di un concerto per violino, ci sono stati film che hanno citato questo teorema, romanzi di fantascienza come Golem 14 di Lem o Software di Rudy Rucker e così via. Insomma è diventato questo teorema veramente un po' il simbolo, la cosa più importante che è stata fatta nella matematica e nei fondamenti della matematica nel Novecento. Il fenomeno dell'incompletezza scoperto da Gödel fu una tragedia, uno shock, che i matematici ricevettero la comprensione del fatto che la matematica era inesauribile, inesaustibile. Non sarebbe stato possibile mai arrivare ad un sistema che avesse raccolto, da un punto di vista assiomatico, tutte le verità, tutti gli assiomi dalle quali si potessero dedurre tutte le verità matematiche. Naturalmente il teorema di Gödel è un tipico esempio di una situazione più generale, una tipica espressione culturale del secolo passato, del Novecento, in cui gli artisti di ogni genere hanno in realtà descritto le limitazioni di espressione del mezzo nel quale essi lavorano attraverso il mezzo stesso. Facciamo alcuni esempi semplicemente per mostrare come questo fatto sia piuttosto universale. Per esempio in letteratura sei personaggi in cerca di autore di Pirandello sono una riflessione sulle limitazioni del teatro e sulle limitazioni della letteratura. Oppure otto e mezzo di Fellini nel cinema, o quattro minuti e trentatré secondi di Cage in musica, o le tele monocrome per esempio di Yves Klein in pittura, sono tutti esempi artistici che mostrano, usando un particolare mezzo, le limitazioni del mezzo stesso. Naturalmente nel caso di Gödel c'è qualche cosa di più, cioè Gödel dimostra le limitazioni della matematica, ma le dimostra in maniera matematica e le limitazioni della matematica diventano i soggetti di nuovi risultati, nuovi teoremi, i cosiddetti teoremi di incompletezza. Una delle conseguenze del teorema di incompletezza di Gödel del 1931 fu la soluzione di uno dei famosi problemi di Hilbert, il secondo problema di Hilbert riferito alla consistenza. Deriva in maniera piuttosto semplice, e infatti Gödel lo vide immediatamente, dal teorema di incompletezza il fatto che non sia possibile dimostrare la consistenza di un sistema formale per la matematica all'interno del sistema stesso. Ricorderete che avevamo cercato di parlare della consistenza della geometria riducendola alla consistenza dell'analisi, la consistenza dell'analisi riducendola alla consistenza dell'aritmetica. Hilbert aveva proposto di fermare questo gioco di scarica barili, di dimostrare direttamente la consistenza dell'aritmetica in maniera così elementare da essere assolutamente tutti convinti del fatto, e invece ciò che Gödel dimostrò attraverso il suo teorema di incompletezza, come conseguenza di questo teorema, è che invece la consistenza dei sistemi formali della matematica non si può dimostrare all'interno del sistema stesso. Cioè, in altre parole, non è possibile fare il gioco che avrebbe voluto fare il barone di Munchausen, di cadere nella palude, ma poi tirarsi su, tirandosi fuori autonomamente per il codino dei capelli. Cioè, una volta che siamo caduti nel pantano, ci dobbiamo rimanere, oppure qualcun altro ci deve tirar fuori. Nel caso della matematica la cosa è perfettamente analoga. Abbiamo un sistema formale, abbiamo un modo di raccontare un mondo matematico, ebbene, ci piacerebbe, vorremmo che questo mondo fosse consistente, possiamo credere che lo sia, ma non possiamo dimostrarlo dal di dentro. Possiamo soltanto uscire da questo mondo e vedere dal di fuori che esso è consistente. E, naturalmente, si può immaginare che queste siano cose che hanno impressionato e interessato. I filosofi ci sono stati, appunto, dicevo, rappresentazioni artistiche di questi fenomeni. Molti libri sono stati dedicati ai teori di Gödel, ne citerò uno solo perché è un po' singolare in questo panorama e del libro di Hofstadter, che si chiama Gödel-Escher-Bach, che già nel suo titolo fa vedere come i risultati di Gödel in realtà abbiano delle connessioni da una parte con Escher, cioè con la pittura, e dall'altra parte con Bach, cioè la musica. In altre parole, siamo arrivati a scoprire un teorema matematico che ha profondissime implicazioni filosofiche, umanistiche, letterarie, artistiche.